dovrei iniziare a farle in effetti ma secondo me non ti conviene io ho fatto la cazzata di iniziare subito cioè veramente lo schifo invece se le fai verso marzo-aprile che la gente quella scarsa era già finite è facile andare fuori perché infatti ho visto anche gli altri ti ho aspettato apposta fino ad adesso eh ma infatti guarda chi l'ha fatto un paio di settimane fa non è che l'ha fatto tanto tempo fa però l'unica fa la fine season cioè io ho visto cambi di rank in fine season anche Gervasio che era in era in bronzo 4 è arrivato in silver 2 sì sì anche la Gadia era in bronzo 2-3 continuava ad andare su di 2 è arrivato in silver 4 però pure lei questo l'ha capita adesso che è un genio del super ma poi c'è siccome c'è un canale su youtube italiano che fa che si chiama adesso cazzo me ne vede no mi verrei mi... ah sì starsky cuckoo che fanno gli stream dei bronzi 5 no? che beccano eeeh si registrano delle partite di bronzi 5 per commentare da scemi ma qual'è qua c'è un bene? che viene a morire ma cosa fai? ma c'è che non si guardate ma no sono portato di qua sai cosa? dovrebbero diminuire un po' il tempo morto iniziale non so che cazzo servo no secondo me va troppo in esponenziale sul card cioè quando arrivi a 70-80 secondi è po' dovrò mettere un cap di 60 secondi è po' perché ho capito che dopo la partita dici vabbè a certo punto dopo finisce in come hit però quando arrivi a 80 secondi è po' ma quello è giusto ma Diana è mid eeeh quindi è Malzar ma un'altra è Safford Dungla cazzo ci saranno cambiati dopo cambi sto ok ovviamente Diana è mid poi se lo sai usare e anche ero convinto Diana e anche io ho usato la scusa jungler ma al massimo mi l'ho vista top mi ha hit è difficile vederla più recente una volta si vedeva spesso è che è un dito in cura ah quando arrivo a sesto sono pazzi ma quando arrivo a sesto me ne sto sotto il cuore già adesso sto ben lontano da attraverso la skin avrà anche la master i6 ok ok sto io ho uscito a stunnarlo per la prima volta al minuto tre per me Ma che fastidiosa la canzone No Vieni Stai arrivando Stai fregato Beh vabbè vabbè Aveva guardato Che merda Non l'aveva fatto Vabbè vabbè Mi servirà il rosso Sostanzialmente mi servirà il rosso Un po' che Sì era toccato che ho flashato Quando Jaisel l'ha ripetuto indietro Porca puttana Ho lasciato perdente per nulla Però che potevo anche non flashare Me l'ha buttata sotto Eh ma io che ne so che me lo putto indietro Non sapete non pensavo Ehi se avessi avuto il mantra L'avrei preso io Sì perché non ho potuto fare la Finirla Comunque questa musichetta sotto è veramente fastidiosissima Ding 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 Oh no Mi tocca a Natale Poi in a ta Poi in a ta Poi in a ta Poi in a ta Qui mi sa di anna Sai Adesso Vuole fare essere 5 Cioè io sono 4 Ho fatto anche una Comunque non so se hanno rifatto Se hanno cambiato qualcosa Il manner gen di brand o di tutti Perché con brand faccio una fatica di tizio col mana? No, non era così Devo farmi più forte che gli temperi il manner gen Non l'ho mai fatto Non l'ho mai fatica Non l'ho mai fatto Comunque se vieni ce la facciamo Che se vieni mi ce la facciamo anche ti amo Eh ma sono di finito Perché non ti faccio sesso Adesso sei Qua è stata per fare il serio Qua è stata la data Muovendo a te Eh Qua è stato un po' Perché li ha whooping up Qua è stato un po' Per dire pare 7000 kill Sono svedesi Perché il hacker No svedesi perché l hacker vuol dire Bello in svedesi Perché il nordese si chiama Si dice vackar Oddio Stavo desistivando i dati del cellulare Perché pingavo sic Non ci metto Non c'è Allora Non c'è Puoi No torcerò Sì Sapicare Do something Ho sono tutte le lane a miliardi di kill se mi tieni un attimo il need di secondi che torna al pole si se la push si ma tanto quello push meglio con te ma sei ancora cito adesso lo faccio si questo è serio adesso trovo è quello che ha più minion di tutti nella partita oh cazzo vabbè vanno 42 però gli due vanno bene anche in spazio per il rosso e poi vengo meglio che falto diana vuol dire l'emilessia adesso è il sinistro spero di poccarlo ma ti venirò addosso eh eh adesso che ti saluterò addosso ti saluterò addosso eh ma c'è ma vedi quei minion se tu arriverà con 400 minion vieni ci sei sì ma l'ha capito ma l'ha capito ma l'ha capito vabbè così si ovvio che si capisce eh ho capito non sta facendo cioè sta facendo il minio che facevo prima sta facendo più di nulla guardatissimo però non è neanche passato oggi non è neanche passato quando era andato senti andiamo veniamo andiamo bot ah così si non c'ho fatto aspetta tu fai rosso no 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 non parla di gioco lo sai quel rosso è nulla dai non vuoi ok dai si danno questo era schifo eh stava scoppiando che cazzo sì sì questo lo vuoi lasciare non dirò che ti serviva il minio 200 ma perché c'è il minio sopra botte nel sangue su cammini go ei io tra un po' veramente prendo e vado dalla rio tra un po' spaccargli il test a questo disco della canzoncina è veramente odioso ho fatto appena adesso il pig che manca guarda i rally comunque non si sa il bat la carina di è 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 Tutto il cooldown, eh, che non puoi capire Questa cazza di rockers Adesso su Occhio Per la oltre adesso Che vieni Però Si è preso una tonnellata di dentro Che scoppia, no? Lui avrà detto Il mio computer non serve Eh ma c'è quantiana che è andata Cazzo Che fatica Ho tirato l'ultima e mi ha stirato già E si Arrivo Guarda Guarda Eh vabbè con quello più veloce Che quello di tirarla in là Tanto Diana era morto E poi adesso il vino dura, non cazzo Ma deve esserci sempre ve in mid Ho capito perchè è sempre qua Non c'è Pffft Dite darmi la mano mi fa Puoi del bot Ancora Non tiramo Anche se non serve praticamente Sì, ma l'unico che sa giocare dei duro è veramente Dianti, insomma. Dovete dovercelo contro io. In realtà ci sono degli handicappati, guarda. Adesso non vedo il video. Ma c'è un casino da Jais. Ma Jais potrebbe anche pinga ogni tanto. No, no, vieni, 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 vieni. Vieni dietro, torna dietro, torna dietro, torna dietro. Dietro dietro c'è il ma... Però forse... Andiamo dai regli. Ma perché non andiamo dai regli? Non scappa. Eh, ma pensavo se non ci spugniamo i pepsi, pensavo se ancora in quelli i pepsi. Sì, ti facciamo. Scappa di imposto. E di qua. Ah! Vieni dietro. Ma ti sembra. Ma ti sembra. Eh, torna dietro, torna dietro, torna dietro, torna dietro. Ma ti sembra. Certo. Boh. Se potevi darmi una mano, comunque... Eh, ti ho detto, se vieni in... Ti ho detto, che è l'universo di me... No, è ma... Mi sono stati in 17 modi differenti, lo so. Sì, no, beh, quello ho ben visto. Ma c'è Lucian che sta a partenza andando in giro per l'altro. Prima di arrivare dai re. Dove è il re? Vabbè, vabbè. Abbiamo fatto una torre... ...de due uccisioni. e che fa dato di loro per tendito sempre se questi non surrennero tra 3 minuti a me c'è un'altra è un portofranco in questa partita vengono tutti di passaggio veramente che bene ma scasso ma tanto scasso adesso potremmo farci anche ah non potremmo farci rifiutare a a a Summoner C'è l'aggo da? C'è l'aggo da? C'è l'aggo da? Eh? C'è l'aggo inutile Eh va bene, perfetto A meno se noi dovessimo arrivare per Spiegel a fare l'Erad Cioè, no, per l'Elder Ci becchiamo qualcosa di più E lo vabbè, dentro C'è l'aggo inutile C'è l'aggo C'è l'aggo C'è l'aggo C'è l'aggo C'è l'aggo C'è l'aggo Sarà la mia ulti pronta Perché devo una sicura? In quella maniera, così assoluta Lo scrive? L'hacker C'è? Lo scrive? Oh, no N'è l'aggo Oh, s'è l'aggo C'è sconato da? C'è una... C'è una scarsa C'è un po' che c'è un po' che c'è? Giorgio fa Giorgio è il mister Gervase si chiama Giorgio Lo smaitato e lo l'ho lasciato a U Lascemi il blu dai Ciao Dove va Jais? Prende iniziative Guardalo Ma cosa sta facendo contro quattro bot? Sì Prende iniziative Dai ho tirato anche l'ultimo E' stato per esempio Mi merda di Mi merda di Mi salto di merda di Ci sta andando a top contro Mi merda di Mi merda di Mi merda di Oh c'è Mi merda di Che che seria? Catrix? Ataca ahi Mi merda di E' un gofa E' un m79 189 Mi merda di 164 Mi merda.. E' un misho Oh 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 Dietro c'è Tanto sei morto Ma io ero morto Però ho rimbalzato un attimo di più Ma hai scoppiato il primo code Del primo rimbalzo Eh fatelo Ma no Ma no Ma tu sei Perché stai pushando tutto C'è una festa a board Non so che mi dici Ho fatto fuori i relia E poi Mi ha pure un tappo Mi ha pure flashato Mi ha pure flashato Mi ha pure flashato Mi ha pure il Baron Mi ha pure flashato Guardate che già cinto che Mi hai semplice Qua Già è scosata Neanche lì Tanto piacciono lupio Oh 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 non c'è nessuno no posto costumando l'ho fatto ho preso una mira in questo dunque io e lui si sa che devo andare ma lui se vai via di stupido cosa fai lungo capilina mister non si risponde se facciamo sto baron ma un altro drago in un sempre lo stesso può è il terzo cloud abbiamo una spinta assurda adesso prendiamo vogliamo partita da verso la base, no 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 insomma venite a me ehi alle vieti che io vorrei massimo eravamo qua scopo che scoppia io sono di copierla che è 4 di 2 ciao mister perchè rimutato che non vuole casse e non avevo le cuffie collegate stiamo finendo una norma non ti ho rischiato no più l'altro forse finì alla parità stiamo per morire così segna vado un 100 HP ma tu mister vuoi fare una rank dopo o facciamo una nota? ah uguale è una cosa veloce però perchè? perchè devo andare a finire un lavoro ma sessuale allora facciamo un Aran Aran va bene beh ha già scoccato un baron c'è il rosso la questione 1 è brava perchè li fuggia qui oh grazie no maledio sono qui ma come è morto poi? quindi danno gli ulti nate mi sono arrivati lo stesso ma c'è un baron eh magari no nè no nè 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 E' un po' di brittanio Che 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 Que Un po' Che 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 Que Che non posso andare in giro io sono giocato la trollata su diana che pensava di venirmi addosso ma perchè state lì? sono il minion che vinto io sono partito nooo mi ha ucciso come che era spuntato che poi me l'ha stirato leona try hard ovviamente ho anche ottenuto una cassa vabbè ho una chiave perchè non faccio mai la S? se più le ho messo le ore che so più già e tutti i trani poi ci sono che è un nuovo messo è un buon messo un buon messo a tutti